C'è l'entrata in campo, oggi è la gara di recupero, Virtus Castelfentano Athletic Lanciano per il campionato regionale Juniores. L'altra signora è finita la pietra della sezione di Lanciano, qua c'è l'Athletic, la scelta del campo. Ma la giupa non te lo metti Nicolò che fa freschetto, ora che scende il sole? Ok, è in bocca al lupo ragazzi.